La giovedì andrà proprio a Vibo? Sì, diciamo che io più che guardare avanti o ieri preferirei guardare dentro casa, quindi pensiamo, come dall'inizio dell'anno sto dicendo, dobbiamo guardarci dentro partita dopo partita e poi a fine anno tireremo le somme, a maggior ragione adesso, francamente mi interessa poco sia sopra che sotto, dobbiamo solamente pensare a noi e cercare di raccogliere il maggior numero di punti possibile. Adesso c'è un giro d'Italia molto importante, prima del ritorno in casa Conto Trento il 20 di marzo. Sì, è così, quest'anno il calendario è saltato tutto a causa noti problemi di pandemia, ma tutte le squadre che stanno subendo disagi ce ne faremo una ragione.